Una lettera per chiedere chiarezza e impegni da parte delle istituzioni interessate sui rapporti che regolano la gestione degli impianti sportivi del rugby aquilano. In estrema sintesi si può riassumere così la missiva che il presidente del Comitato Abruzzese della Federazione Italiana Rugby, Giorgio Morelli, ha voluto inviare al sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, all'assessore comunale allo sport Alessandro Piccinini, a Domenico Nardis e Antonio Gialloreto, sindaci rispettivamente di Villa Sant'Angelo e Poggio Picenze, ma anche al presidente del Centro Universitario Sportivo dell'Aquila, Francesco Bizzarri. Per la sua connotazione di alta valenza educativa e sociale, il rugby può essere uno tra gli elementi più importanti della ricostruzione dell'animo delle persone, scrive Morelli. Il fermento che anima le società rugbystiche aquilane è testimonianza di un'enorme vitalità, anche a fronte di condizioni oggettivamente difficili per la sopravvivenza dei sodalizi stessi. Il presidente di Firra, Abruzzo, prende atto favorevolmente del nuovo progetto sportivo che alcuni club del territorio vorrebbero realizzare per la prossima stagione aconistica, ma al tempo stesso, come massimo rappresentante istituzionale della Pallovale regionale, assolve il ruolo di garante di tutte le società, anche quelle che non prenderanno parte al progetto. È auspicabile dare seguito e concretezza anche ai singoli progetti sportivi senza interferenze, potendo contare sulle stesse condizioni sulle quali hanno postulato il loro sviluppo tecnico e societario. Nella parte finale della lettera emerge la richiesta alle istituzioni dei territori, all'interno dei quali sorgono gli impianti attualmente utilizzati dalle sette società del comprensorio. Le condizioni tecnico-amministrative che regolano i rapporti tra le società di rugby e i vari concedenti non sono omogenee, variando da condizioni più consolidate ad altre in via definizione, evidenzia il presidente. Il fine di questa riflessione conclude è quello di portare tutti i rapporti in essere al massimo livello di consolidamento che le attuali norme consentono. Quindi prego le istituzioni di interessare ognuno ai propri uffici affinché si possano a breve, entro l'inizio della nuova stagione, concretizzare tutte le condizioni che permettano ad ognuno dei club indicati di progettare il proprio futuro. Grazie.